Una volta creato l'account docente, per entrarvi bisogna ritornare sul sito www.socrative.com e cercare la scritta Teacher Login sul PC e qui, nei tablet e nei cellulari, potrebbe essere dal menu a tendina che si apre cliccando sulle tre righette. Clicco su Teacher Login, inserisco l'indirizzo mail con cui mi sono registrata e la password che ho inserito e poi clicco su Sign In. A questo punto entro nel mio cruscotto di lavoro. Se il nome della stanza che mi è stato assegnato automaticamente dal sistema non mi piace, allora vado su Rooms, clicco sulla matitina, clicco dentro la scritta e lo cambio. In questo caso io riscrivo quello che ho perché questo è già stato cambiato e mi piace. Il consiglio è di cercare un nome che sia facile da comunicare ai nostri alunni quando devono entrare in classe. Salvo. La scritta Headroom è solo per gli account a pagamento. L'account free permette di avere una sola stanza, una sola classe, ma è più che sufficiente perché io poi posso differenziare attraverso i titoli le verifiche sia per disciplina che per classe.